benvenute e benvenuti a tutte le studentesse e gli studenti collegati in diretta per un evento tra quelli più importanti per l'ateneo e per questo vedete che qui accanto a me c'è un ospite molto importante il magnifico rettore dell'università degli studi di trieste il professor roberto di lenarda buongiorno professore buongiorno a voi desidero nuovamente ringraziare anche in questa seconda giornata di porte aperte live dell'università di trieste tutte le studentesse e gli studenti che con i loro insegnanti ci stanno seguendo dalle scuole superiori che sono collegate da tutto il territorio nazionale per seguire questa importante manifestazione di orientamento che sarà tutta dedicata quest'oggi all'area tecnologico scientifica l'obiettivo è raccontare l'università di trieste a tutti coloro che si trovano in questo momento molto importante del loro percorso di vita per questo lascio la parola a lei magnifico rettore grazie mille un caloroso benvenuto a tutti voi sia i ragazzi che i professori che oggi sono con noi in questo momento particolarmente importante il momento della scelta dell'università è sempre un momento decisivo nella vita di ciascuno di noi individua quelli che saranno i percorsi che seguiremo nella nostra vita ci metterà nelle condizioni di conoscere le persone con cui probabilmente passeremo una parte importante della nostra vita grandi amicizie si sviluppano in questo periodo e oggi tutti noi dobbiamo sentire la forza e la e la felicità che ci deve venire dal da una nuova normalità verso cui ci stiamo avviando usciamo da un periodo veramente difficile in cui l'università tutta l'università ma in particolare la nostra università ha fatto uno sforzo straordinario per rimanere aperta per dare la possibilità ai ragazzi di frequentare di studiare di non perdere tempo rispetto al percorso di studio questo impegno un impegno che continuerà anzi che sarà ulteriormente accelerato sia dal punto di vista degli investimenti che dal punto di vista dell'organizzazione e quindi la scelta dell'università intesa come sede come città ma anche la sede della tipologia di corso di studio è assolutamente fondamentale credo che sia molto importante che voi ragazzi cominciate a pensarci per tempo so che oggi abbiamo presenti sia ragazzi dell'ultimo che del penultimo anno è importante guardarsi intorno è importante capire quelle che sono le proprie le proprie diciamo attitudini capire quello che si vuole tendenzialmente fare da grandi sapendo peraltro che nella moderna nella moderna società tutti noi dobbiamo essere pronti sempre a cambiare implementare a studiare però scegliere bene dall'inizio sicuramente un elemento molto importante per partire col piede giusto nel caso specifico poi della giornata odierna in cui appunto trattiamo e vi saranno presentate tra l'altro da una nostra ricercatrice bravissima la professoressa nenzi che è impegnata in un ambito di frontiera cioè l'intelligenza artificiale sarà ancora più interessante per voi capire verso dove ci stiamo muovendo dicevo partecipare a questa giornata vuol dire partecipare alla giornata dei corsi di studio in un ambito che oggi possiamo dirlo con tranquillità garantisce il lavoro già prima della fine del corso di studio tutta l'area stem cioè delle lauree scientifiche oggi vede un'esplosione delle richieste straordinarie fare questa scelta se motivata dalle proprie attitudini seguire in modo corretto il percorso di studi vuol dire mettersi nelle condizioni di poter entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale con le condizioni migliori e permettetemi contribuire al nostro paese a riprendersi dopo un periodo non facile e che ci metterà nelle condizioni di poter sfruttare questo nuovo non esagero dire questo nuovo rinascimento che anche i fondi europei ci permetteranno se saremmo in grado di usarli nel modo migliore credo che trieste in tutti gli ambiti ma soprattutto in questo in particolare ministro di trieste siano una ottima scelta ed è solo un'ottima scelta per la città che una città bellissima accogliente con ottimi servizi ma proprio anche per quello che l'università e gli enti scientifici possono dare a trieste hanno sede molti molti enti di altissimo valore sia nazionali che internazionali che completano in modo sinergico l'offerta che la nostra università può dare credo quindi che la scelta se la farete in questo ambito non potrà che darvi enormi soddisfazioni e quindi con la certezza che tutta l'università col suo personale docente non docente e a completa disposizione per fare ogni sforzo per mettervi nelle condizioni di ottenere il massimo dalla scelta che state per fare vi rinnovo i miei più calorosi saluti di benvenuto e vi auguro di continuare a seguire questo evento sfruttando e cogliendo tutti gli aspetti che vi verranno descritti grazie e buon lavoro grazie professor di lenarda magnifico rettore per le sue parole importanti e anche l'apertura di questa seconda giornata di porte aperte che sarà focalizzata oggi sui corsi dell'area tecnologica scientifica passo quindi la parola a maria che è collegata proprio dal quartier generale dell'orientamento insieme alla professoressa laura nancy che ci racconterà brevemente la sua attività di ricerca e le ricadute sulla didattica per introdurci all'area tecnologico scientifica di scena oggi grazie barbara sono qui infatti insieme alla professoressa laura nancy a cui do intanto il buongiorno professoressa benvenuta buongiorno grazie faccio intanto una piccola introduzione laureata in matematica presso l'università di trieste con un dottorato in computer science conseguito presso la scuola imt alti studi di lucca e attualmente ricercatrice di informatica presso il dipartimento di matematica e geoscienze e postdoc presso l'università tecnica di vienna dove co-pi di un progetto da 2 milioni di euro sull'analisi di grandi quantità di dati per politiche di sostenibilità ha recentemente poi vinto una tenure track position come assistant professor presso il dipartimento di ingegneria ed architettura dell'università di trieste dove prenderà servizio da metà novembre insegna poi al corso magistrale di data science and scientific computing e al corso triennale di intelligenza artificiale data analytics ed è membro associato del comitato scientifico del dottorato in logic methods in computer science dell'università tecnica di vienna l'anno scorso ancora ha vinto il premio austriaco è di lamar un premio dedicato alle giovani ricercatrici per i risultati ottenuti nel campo delle tecnologie dell'informazione pensate allora professoressa iniziamo ci puoi intanto descrivere meglio il suo ambito di ricerca allora io mi occupo di modellizzare e analizzare il comportamento di sistemi complessi un esempio di tipico di sistema complesso sono i sistemi cyber fisici come le macchine guida autonoma o i device medici come pacemaker o i droni e robot quindi questi sono sistemi dove c'è una parte fisica quindi ad esempio la velocità della macchina o il battito del cuore nel caso del pacemaker che viene controllato monitorata dalla parte cyber quindi abbiamo questa ad esempio la velocità o il battito cardiaco abbiamo dei sensori che misurano l'andamento di queste quantità questa informazione viene passata alla parte cyber e questa riesce a modificare qualcosa nel device in modo da controllare appunto la parte la parte fisica e quello che cerchiamo di fare noi è cercare di a partire per esempio da grandi quantità di dati di trovare come modellizzare questi sistemi e poi di analizzare appunto il comportamento in particolare per analizzare il comportamento usiamo delle tecniche di un'area una nicchia abbastanza piccola dell'informatica che si chiama metodi formali dove noi definiamo dei linguaggi per descrivere questi comportamenti e poi la parte difficile è dato appunto questo sistema questo modello che abbiamo e il comportamento descritto tramite questi linguaggi la parte difficile è riuscire a costruire gli algoritmi che poi in maniera automatica mi dicono se il mio sistema soddisfa o no i comportamenti che noi vogliamo per riuscire a fare tutto questo abbiamo bisogno di avere competenze in ambiti molto diversi quindi in realtà quello che faccio io è abbastanza interdisciplinare e comporta competenze in ambito matematico in ambito informatico in ambito statistico e anche in ambito fisico quindi c'è molto machine learning modellizzazione stocastica simulazione e un'introduzione intanto già molto che ci appassiona già molto intanto c'è qualche riflessione che poi giudica più importante relativamente anche a questo ambito qualche consiglio insomma che si sentirebbe di dare anche ai giovani studenti e studentesse che ci stanno seguendo e che volessero avvicinarsi proprio all'intelligenza artificiale ma io penso che quello che faccio sia abbastanza affascinante perché ora vedete oggi oggigiorno siamo circondati dalla tecnologia siamo circondati in realtà ad algoritmi cioè alla base della pubblicità che vi viene fuori sulla social network alla base della ricerca di google alla base delle predizioni del meteo ci stanno degli algoritmi e la possibilità di andare a studiare quello che ci sta dietro alle tecnologie che usiamo tutti i giorni io lo trovo molto affascinante oltre a essere affascinante è anche praticamente utile perché la maggior parte dei lavori del futuro avranno bisogno saranno basate appunto su competenze tecniche e scientifiche infatti la maggior parte degli studenti che studia data science scientific computing ha un lavoro a proposte di lavoro ben prima di finire il secondo anno di master e e oltre a questo fanno dei tirocini già pagati durante il secondo anno e un'altra cosa è la triennale che è stata che è stata inaugurata l'anno scorso per per diciamo avere un percorso completo di cinque anni di intelligenza artificiale è stata pensata proprio per dare già delle competenze interdisciplinari fino dall'inizio e quindi è una laurea che ti permette già dopo tre anni di poter essere messo nel nel mondo del lavoro in ambito di intelligenza artificiale ma è un tema importante da sottolineare e infine volevo ricordare che sappiamo che una delle sue passioni è il teatro e che recentemente è anche riuscita a coniugare queste sue due passioni quindi la scienza e il teatro in uno spettacolo sulla discriminazione delle donne nella scienza vuole raccontarci anche qualcosa di questa esperienza anche delle motivazioni importanti che la spingono sì allora devo dire che è capitato per caso nel senso che io faccio teatro da molti anni da vent'anni ormai e ho sempre avuto questa voglia prima o poi di mettere insieme la scienza e la mia passione per il teatro che diciamo vorrò fare farò anche più praticamente dal punto di vista anche didattico di divulgazione scientifica in realtà però in questo caso in questo spettacolo della discriminazione delle donne nella scienza è stata una cosa molto diversa nel senso che è stato più un percorso personale di presa di coscienza di cosa vuol dire essere una donna nell'accademia è capitato per caso appunto perché l'anno scorso trieste era città della scienza e c'era questo progetto fatto da marcella serli in cui appunto voleva mettere insieme un certo numero di ricercatrici e professoresse dell'università per trattare questo ambito in realtà è stata un'esperienza bellissima perché ho conosciuto un sacco di persone straordinarie sia le professoresse ma anche delle danzatrici è un'attrice un'attrice bravissima e marcella è stato un percorso personale perché io sono partita personalmente pensando di non aver mai subito nessun tipo di discriminazione il mio percorso accademico è stato molto lineare sono stata circondata devo dire da bellissime persone nell'accademia e però mi sono resa conto che ci sono tante piccole discriminazioni secondo me dovute anche a diciamo più discriminazioni sociali dovute a anni e anni di non parità di genere e che sono ancora presenti e che sono molto più difficili da da individuare quando sei dentro al sistema su me l'argomento di della discriminazione delle donne in accademia comunque molto delicato molto ampio e diversificato a seconda degli ambiti perché ad esempio in biologia e in medicina è evidente come ci siano tantissime laureande dottorande ma ci siano pochissime donne che invece poi diventano professori professoresse invece nel mio ambito nell'informatica c'erano già pochissime donne che studiavano studiavano questo tipo di materia adesso le cose stanno un po cambiando ma nel mio ambito secondo me le cose erano diverse sono state diverse o c'è stato un tipo di discriminazione a livello educativo prima quando si dava un bambino il robottino e la macchinina e la bambina la bambola e la borsettina quindi c'è un modo di crescere bambino e bambina che non è ancora paritario sta cambiando infatti il numero di donne sta aumentando tantissimo anche negli ambiti scientifici però ci stiamo ancora lavorando diciamo e poi secondo me ci sono altri tipi di discriminazioni su come diciamo sul percorso accademico che sono dovute a discriminazioni diciamo amministrative burocratiche ad esempio in italia la maternità sono cinque sei mesi sembra e la paternità sono dieci giorni in altri paesi europei siamo arrivati a una totale parità di numero di mesi possibili tra uomo e donna e a una donna soprattutto a oggigiorno in cui il percorso accademico è molto impervio è molto più lungo di una ventina di anni fa tra laurea e diventare professore c'erano pochi anni adesso sono molti anni la donna si ritrova spesso proprio nel momento critico di quando vuole fare una famiglia e nello stesso momento cercare un lavoro fisso e in questo c'è una discriminazione di genere proprio per il fatto che la donna è quella che dovrebbe partorire e tenere il bambino all'inizio e quindi sì secondo me ci sono ci sono ancora molte cose su cui ci si può lavorare e io vedo molto vedo dei cambiamenti vedo che c'è un attivismo generale abbastanza presente un messaggio molto importante che ci porta quindi a riflettere insieme a un'esperienza profonda la sua volevo ringraziare quindi la professoressa laura nenzi per la sua testimonianza che ci ha fornito anche una prospettiva diversa di quello che significa fare ricerca in un ambito quello tecnico tecnologico scientifico che tradizionalmente come voleva sottolineare più maschile quindi grazie davvero per essere stata con noi oggi grazie vi ricordo inoltre studentesse studenti che adesso avrete la possibilità di seguire tutti i webinar con le presentazioni dei corsi e partecipare in diretta alle chat con i tutor e i docenti collegati per chiarire i vostri dubbi ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno per maturare una scelta il più possibile ricordiamo ponderata e consapevole vi ricordo anche che attiva ogni giorno dalle 9 alle 13 l'aula virtuale di orientamento uniti s orienta dove potrete incontrare i professionisti dell'orientamento di uniti s e i tanti studenti per avere informazioni sul campus universitario ma anche sulle case dello studente le borse di studio le tasse universitarie e il collegio di merito luciano fonda grazie quindi a tutti voi per l'attenzione e una buona partecipazione a questa seconda giornata di porte aperte live all'università di trieste